. Chiara Ferragni, da quando ha raggiunto la popolarità, non si è mai vergognata del suo corpo, e spesso pubblica foto che la ritraggono con abiti che lasciano chiaramente vedere le sue forme fisiche. . Recentemente, la futura moglie di Fedez, ha postato su Instagram un'immagine di lei in biancheria intima affacciata ad un balcone. Uno dei suoi follower ha commentato l'immagine invitando Chiara a rifarsi il seno, e la Ferragni ha risposto a tono. . Guarda che con 5 mila euro ti fai due ZI, asterisco, asterisco e dà paura al posto di quelle due ciliegie che ti ritrovi, ha scritto un hater commentando la foto della mamma di Leone, e criticandola per le sue naturali forme fisiche. . La Ferragni ha risposto in modo educato e sintetico. Preferisco investire i miei guadagni altrove. . A causa della sua mondiale popolarità, Chiara riceve spesso critiche per il suo comportamento, o per la sua forma fisica. . Proprio per questo, la 31enne è abituata a relazionarsi anche con persone che non l'apprezzano come è accaduto in questa occasione. . Tuttavia l'imprenditrice, piuttosto che ignorare il commento negativo ha deciso di rispondere questa volta, e lo ha fatto in modo chiaro e preciso. . La Ferragni ha infatti affermato di non avere nessuna intenzione di rifarsi il seno nonostante questo non sia molto prosperoso. . Chiara ha anche detto che preferisce spendere quello che guadagna col suo lavoro in un altro modo piuttosto che in un'operazione chirurgica del genere. . Anche gli affezionati fan della Ferragni, hanno risposto al commento negativo sostenendo la posizione della mamma di Leone. . Proprio nelle ultime ore, Chiara e Fedez hanno abbandonato l'hotel nel quale hanno vissuto a Milano per trasferirsi nella loro nuova casa. . I futuri sposi sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita, e, come ha dimostrato il commento dell'imprenditrice, non sono disposti a lasciarsi mettere i bastoni fra le ruote da chi li critica sul web. . . . . . . . . .